Ciao, buongiorno. E qui c'è Teo Hernandez che prova a passare. Com'è andata ieri? Bene, bene. Abbiamo fatto un gran allenamento dopo tre settimane, diciamo. Siamo contenti che siamo adesso qui e vogliamo tornare come abbiamo finito la stagione. Hakan, miglior giocatore della Serie A del mese di luglio, tanta roba. Sì, come ha fatto il post da Instagram, una frutta di squadra che abbiamo lavorato tutti insieme bene e sono contento. Hakan può giocare ancora meglio di così? Sì, voglio continuare così.